buongiorno a tutti e ben ritrovati nell'angolo verde di angela quest'oggi per la playlist dalla vite al vino come potete vedere vendemmiamo siamo a settembre quest'anno ho dovuto anticipare di circa 15 giorni la vendemmia perché appunto come potete vedere è già matura iniziamo le procedure per la raccolta dell'uva iniziamo 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 un пр�묘allenare iniziamo iniziamo ben pr trader iniziamo 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 entrizione eniziamo e iniziamo iniziamo un Ralf un Grazie a tutti.